Siamo molto orgogliosi soprattutto per il lato internazionale di questa gara perché non è una gara solamente nazionale, questa è una gara soprattutto di amicizia per riunire questo mare che ci collega, che è un unico mare tra l'Italia e la Croazia e abbiamo quest'anno penso una ventina di barche italiane e tutti insieme abbiamo 48 equipaggi che concorrono su questo torneo qualificativo per un torneo mondiale che si chiama Offshore World Championship. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.